Un'Italia dai due volti, c'è quello della solidarietà e della beneficenza, testimoniato dalle tante iniziative che hanno caratterizzato questo Ferragosto, come i pranzi con i poveri e la grande cocomerata dell'integrazione, offerta dalla comunità di Sant'Egidio a immigrati italiani in tante città del nostro paese. E c'è quello non certo solidale mostrato da alcune istituzioni locali. Come nel caso di Ventimiglia, dove l'iniziativa del sindaco Gaetano Scullino, quella di rimuovere una fontanella all'ingresso di un parco, utilizzata prevalentemente da immigrati per bere e lavarsi, sta facendo molto discutere. Sporcano, sprecano acqua e creano allagamenti, ha spiegato il primo cittadino. È una questione anche di decoro pubblico. La fontanella verrà spostata all'interno del parco, dove sarà utilizzata solo dalle mamme e i papà e i bambini che lo frequentano. A Napoli un fin troppo zelante, si fa per dire controllore dell'azienda di trasporto pubblico, ha pensato bene di multare e far scendere da un autobus una ragazza di 28 anni salita a bordo in fretta e furia, in preda alle doglie. Non aveva fatto in tempo a pagare il biglietto e così è stata lasciata per strada, da sola. La donna, poche ore dopo, ha partorito all'ospedale Cardarelli ed è andato tutto bene. Vicende anche fastidiose come quella che vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi e che arriva da Messina, dove il sindaco, Cateno De Luca, sulla sua pagina Facebook esultava con toni trionfalistici, commentando l'azione della polizia locale mentre eseguiva una sua ordinanza di sgombero. Quattro poveracci che dormivano in strada, svegliati di soprassalto, cacciati in malo modo.